Il punto di partenza per questa collezione è vedere come attraverso la tecnologia si può anche rivedere i codici di una maison come Dior con occhi nuovi. Con Maria Grazia abbiamo un'idea di avere dei corsetti di protezione, delle protezioni soft che sono parte del futuro. Air Lab è un'azienda che sviluppa tecnologie applicate più a sporti estremi. Il componente fondamentale di tutti i progetti e i prodotti di Air Lab è l'ergonomia. Partiamo dal corpo umano al disegno 2D per andare poi ad ottenere il prodotto finale in 3D. Work Air è pensato per gli utenti che lavorano in altezza. È dotato di intelligenza, pertanto attraverso un'elettronica integrata nella parte frontale e attraverso la presenza di generatori di gas in grado di riconoscere una caduta e quindi di gonfiarsi pochissimi millisecondi, andando a proteggere le zone del torace e della schiena. Proteggiamo gli uomini che fallono da scuola, motorbikers, 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 in sport e in active life. Questo prodotto è pensato per la protezione, in particolare dal freddo. È un prodotto pensato in seta, in cui vengono integrate delle piste conduttive infilato d'argento che sono in grado di portare dati a quelli che sono i sensori. Nel momento in cui i sensori, ad esempio, rilevano un abbassamento della temperatura, il sistema intelligente a cui sono connesse le varie piste provvede proprio a riscaldare apposite aree. Quando parliamo di abiti, parliamo sempre di qualcosa che è in relazione al nostro corpo, è praticamente la prima casa del nostro corpo. E quindi sperimentare e vedere come con la tecnologia questa casa può essere non soltanto esteticamente bella, ma anche avere degli aspetti funzionali che ci aiutino ad avere più comfort, sia un modo per sperimentare e guardare la moda nel futuro. Grazie a tutti.